Collega, fai attenzione per piacere, ma questo cosa amato. Ma fai attenzione, chi è che lascia di questo? Fai attenzione, tu non vuoi mettere i costi? Stamattina, già Facebook non funziona, ma questo altro è il muro e lo spavento. Non riesco a capire, questo? Scusa, collega, è venuto il tecnico della telecom, che l'abbiamo chiamato insieme si fa. Mi ha messo a posto, attenzione, non lo maltrattare, perché il cavo sta collegato a tutta la centrale di Polizia. Ho capito, ma il cavo qua deve rimanere. Il cavo ha avuto una chiamata d'urgenza, perché i pompieri, la caserma, è successo un incendio, sono bruciati tutti i figli e si è andato il sistema telefono. Non mi interessa, questo è il problema, io vorrei sapere, questo cavo qua deve rimanere, non è possibile. Viene qualcuno, fa la denuncia, fino a quando inciampo io, va bene, ma inciampo una vecchietta, muore. Scusa, 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 si le paga. Hai visto questo? Giovanni, quello del visualmento, l'amicizia. E dammi il numero, ce l'hai il numero di quello? Amicizia, allora vuoi il numero? Dammi il numero, dai. Allora, 3, 2, 5, 4, 6, 2, 9, 3, a capo, 6, 7, 2, 0, 1, 7, 4, 5. Il qua, il qua si vede. Prove mobile, scusate. Impianti telefonici, chi parla? Stazione dei Carabinieri, salve, salve. Senta, c'è un problema serio, qui qualcuno è venuto, forse proprio lei, non lo so, ad aggiustare la linea telefonica? Eh sì, sono venuto io. È proprio lì. E vabbè, però, voglio dire, non è che sono condizioni queste in cui lasciare, qui ci lavoriamo noi, cioè lasciate un sorta di filo, esattamente filo, con il rischio anche di inciampare, fino a quando inciampo io, mangiamo una vecchietta, una cosa. Ah, è filo lungo, vabbè, cosa vuole? Che cosa vuole, come che cosa vuole? Se gentilmente, ecco, chiediamo anche con gentilezza, se potete tirare un po' il filo dalla vostra parte. Vuole che lo tiro un po' di più? Stai, tirate, tirate. Aspetta. Aspetta. Aspetta di succhio, ma no. Ma troppo, va bene. Eh, va bene. Va bene così. Eh, va bene. Aspetta, con flea. Da. Così. Va bene. Via, flea, basta così. Oh, come? Eh, non è presa. Es, gira questo, d'accordo? Basta. Sei fatto male. Eh, sì. Grazie a tutti.